musica XXL di Avanti Un Altro al Serino Summer Festival oh che bello cosa pensa dell'organizzazione dell'evento? ottima, davvero fenomenale, sono contentissimo di stare qui stasera insieme a tutti voi ci fa piacere, è il primo anno che partecipa a questo evento? sì, è il primo anno che vengo qui al Summer Festival di Serino hai intenzione di ritornare? assolutamente sì, guarda quanta bella gente va bene, la ringrazio, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tupu Channel oh, ma ciao grazie a tutti